Edizione straordinaria il 28 marzo dalle 20.30 alle 21.30 sarà l'ora della Terra. Spegni la luce anche tu per chiedere ai grandi del pianeta di agire contro i cambiamenti del clima. 60 minuti al buio per accendere un messaggio di speranza. Registrati al sito www.wwf.it Perché poi è inutile che stia lì a raccontarvi la rava e la fava. Il clima è una cosa molto, molto importante. Del futuro nostro, dei nostri figli, di chiunque ami davvero questo pianeta. Per cui mi raccomando, aderite a questa iniziativa molto importante per il WWF. Mi raccomando, anzi guardate quanto io sono ligio a dovere. Do subito il buon esempio spegnendo la luce. Vai! Eh, però così sono completamente al buio, scusate. Cioè l'idea di rimanere al buio è carina, però una candela, anche solo una pila. E ragazzi, siate gentili. Chiamate qualcuno però perché così al buio mi viene anche una sorta di paura. Dai, dai!